Benvenuti alla settima puntata di Una Finestra sul Mondo. Oggi puntata speciale perché è la nostra ultima puntata, perché adesso andremo un po' in vacanza anche noi, ci rivedremo ovviamente a settembre e poi intervisteremo anche una persona, ma poi vi dirò chi è. Adesso facciamo come il nostro solito. Innanzitutto l'argomento di oggi. Beh, oggi parleremo di musica e canzoni. Eh sì, perché insomma ognuno di noi ha la propria canzone del cuore, una canzone che rappresenti un momento importante della sua vita. E poi vogliamo parlare di canzoni anche perché quest'anno l'Italia ha vinto l'Eurovision, il Song Contest. Quindi pensate, dopo 31 anni questa manifestazione si terrà in Italia. Questo è successo grazie ai Maneskin. Eh sì, i Maneskin ormai abbiamo parato a conoscerli tutti. È un gruppo musicale, rock, formato da quattro componenti, Damiano, Victoria, Thomas e Dayton. E pensate, sono tutti giovanissimi, hanno la mia età, sono ventenni e hanno già avuto un grandissimo successo a livello nazionale e internazionale. Eh la loro carriera è cominciata con la partecipazione nel 2017 ad X Factor e poi ovviamente quest'anno hanno vinto il primo il Festival di Sanremo e poi l'Eurovision. Quindi un anno da incorniciare. Eh e poi insomma ormai sono conosciuti in tutto il mondo perché pensate che attualmente sono nella top ten globale di Spotify con ben due brani. Quindi davvero un successo clamoroso. E questo dimostra insomma che ormai per entrare nel mondo della musica sia importante partecipare dei talent. Noi in Italia ne abbiamo diversi, i più importanti sono appunto X Factor e Amici. Ma comunque il sogno per ogni cantante italiano ovviamente è quello di salire sul palco di Sanremo. Il Festival di Sanremo rappresenta tutt'oggi il simbolo per eccellenza della musica italiana. E poi specialmente negli ultimi anni ha saputo rinnovarsi e sono saliti sul palco dell'Ariston artisti che hanno portato una musica davvero molto innovativa. E vediamo un po' però quali sono i generi musicali più amati in Italia. Beh il primo posto sicuramente per la musica pop e dance. Al secondo posto troviamo il rock e il metal e al terzo posto il rap e l'hip hop. Adesso andiamo a vedere invece quali sono le abitudini degli italiani. Pensate che il 50,4% degli italiani ascolta musica in casa, il 32,7% mentre si sposta in automobile e infine il 10% nei locali pubblici. La maggior parte degli italiani ascolta musica tramite internet e piattaforme specializzate come per esempio Spotify. E poi però c'è ancora chi ama ascoltare musica su dei supporti come possono essere i cd o addirittura i dischi in vinile. Il tempo di ascolto medio si aggira intorno alle 2-3 ore alla settimana. E poi vabbè in questo periodo ascoltiamo musica ovunque. Eh sì perché siamo in estate e l'estate è il periodo per eccellenza dei tormentoni. Eh sì quanto ci rimangono in testa quelle canzoni che poi tutto il giorno pensiamo e le cantiamo. Eh sì ma perché queste canzoni hanno un grande successo perché hanno un ritmo ballabile, melodie facilmente orecchiavili. Basta solo che vi dica un titolo mille. Vi viene subito in mente ovviamente il grandissimo successo di questa estate cantato appunto da Fedez, Achille Lau e Loretta Berti. E se vi dico Malibu è anche lì San Giovanni un artista emergente anche lui appena fatto amici e poi adesso sta avendo un grandissimo successo. Va bene adesso però vogliamo continuare a parlare di musica e questa volta lo facciamo con Samuele Forte un ragazzo piemontese grande amante della musica che a breve uscirà con un brano musicale composto proprio da lui. Vediamo insieme l'intervista che abbiamo realizzato. Allora Samuele tu sei un giovane compositore. Come ti sei avvicinato al mondo della musica? Ma allora diciamo che è successo tutto un po' a caso nel senso che nella mia famiglia non ci sono nella mia famiglia stretta non ci sono musicisti però diciamo che da piccolo ascoltando i dischi di mio padre mi sono appassionato alla musica degli anni 70 dei Led Zeppelin e dei Pink Floyd per esempio e da lì in poi diciamo che la mia curiosità per la musica è aumentata in modo esponenziale da quel momento e quindi insistendo un po' ho convinto i miei genitori a farmi fare delle lezioni di chitarra che all'inizio sono state fatte con un caro amico di mia zia che ha avuto la gentilezza di darmi due basi e poi l'anno successivo mi sono iscritto a una scuola di musica vera e propria e da lì in poi diciamo che sono ormai otto anni che appunto sono cimentato in questo mondo E lo so anche che adesso anche stai studiando per diventare tecnico del suono Sì, ho terminato poco tempo fa il corso e quindi sì spero adesso di riuscire in qualche modo a essere sempre più dentro questo mondo Certo, abbiamo parlato prima di canzoni e musica italiana tu normalmente quali generi ascolti? Allora io principalmente ascolto il genere che suono ovvero tutto ciò che ha a che fare con il rock e il metal principalmente ultimamente specialmente tutta la scena svedese anche alcune cose della scena americana sono sicuramente le robe che sto ascoltando di più ultimamente però sia per motivi diciamo professionali che per interesse personale spesso e volentieri mi trovo ad ascoltare altri generi in particolare ultimamente sto trovando molto interesse nell'hip hop sia internazionale che italiano anche se non posso sicuramente definirmi un fan accanito Ok, so che a breve uscirà il primo brano scritto da te Com'è nato un po' questo progetto e quali sono le emozioni che provi prima del debutto? Ma allora, l'idea nasce durante la zona rossa di questo inverno durante la quale diciamo un po' preso dalla noia ho per la prima volta da quando ho iniziato a sonare la chitarra cercato in qualche modo di tirar fuori qualcosa di mio infatti fino ad ora non mi ero mai cimentato nella composizione però approfittando anche dello stage che ho fatto in uno studio ho diciamo iniziato questo progetto musicale che nasce tutto da un'idea mia quindi sia la composizione, la produzione, l'ingaggio dei musicisti è stato tutto fatto da me e le emozioni sono tante perché è la prima volta che appunto sento degli altri musicisti suonare cose composte da me ed è sicuramente una bella esperienza e mi ha dato molta motivazione anche per continuare in futuro Esatto, infatti come vedi il tuo futuro da compositore? Ma adesso io spero questo progetto di poterlo portare avanti ho già in testa alcune idee dei prossimi brani che però ovviamente sono tutt'altro che definitive l'ideale sarebbe per me questo progetto di riuscire a portarlo dal vivo speriamo che appunto quando questa situazione si tranquillizzi un po' ciò sia possibile Certamente Bene, grazie a Samuele per aver partecipato alla nostra ultima puntata di stagione e noi ovviamente gli facciamo un grosso in bocca al lupo per il suo futuro e adesso siamo arrivati al momento dei ringraziamenti e dei saluti beh, ringrazio tutti voi per averci seguito in questa magnifica avventura durata ben sette settimane ma ovviamente non finisce qui e noi ci rivediamo e anzi vi auguro buone vacanze e ci rivediamo a settembre ovviamente con la seconda edizione di Una Finessa sul Mondo Buone vacanze a tutti Ciao